Lore, posso farvi vedere una cosa prima che cominciamo? Certo. Ti piacesse avere i capelli così il giorno matrimonio? E in questi casi l'uovo faccio miracoli. Io per farmi bello. Sui capelli smitto a merda i cavalli. Puzzano poco, ma li faccio così morti. Marta, il signor Gino veniva a casa nostra dove faccia un discorso che io trovo sensato il nobile. Domanda, ti prendi un po' moglie. Queste sono belle notizie. Parroco, parroco, per organizzare tutto. Ricordatevi che ho un marito e un capofamiglia. Io li porto il pane a casa e la sua sudura è come l'acqua benedita. E ora tutto quello come funziona. Vi sposerete e sarai reclusa a Fonte Nuova. Ti spacca la schiena dalla mattina alla sera. Non so se stai io facendo la cosa giusta. Ma che cazzo dici, Marta? Perché siamo convinte che siamo noi donne che possiamo fare la differenza. Lei è bianca l'amica che ti dicevo. Hai provato a dartelo a provare. La guerra è finita. Noi siamo rinati. Per chi serve se facevano attavate cose come erano prima? Guarda se inventare questa cosa mi fanno votare pure i film. E io a votare ci vai. Non ti posso chiedere giù. E io a sper excavi. No, sei gelato. È così bellissimo. È bellissimo.